La vicenda della professoressa di Palermo, Rosa Maria Dell'Aria, di cui si è parlato anche in Parlamento in occasione del Question Time settimanale, fa tornare d'attualità il tema del procedimento disciplinare, tema sul quale proprio in questi ultimi giorni il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcuni dati numerici di grande interesse, dati dai quali emerge che comunque i procedimenti disciplinari nella scuola rappresentano un aspetto non del tutto irrilevante. C'è chi parla di un fenomeno in continuo e significativo aumento, ma a dire il vero in assenza di dati storici è difficile fare una valutazione precisa. In ogni caso va tenuto presente che l'esercizio dell'azione disciplinare riveste per l'amministrazione scolastica carattere di obbligatorietà. Il dirigente scolastico o la direzione regionale hanno cioè l'obbligo di avviare il procedimento nel caso in cui il dipendente ponga in essere comportamenti contrari ai suoi doveri d'ufficio. In alcuni casi, soprattutto se per gli stessi fatti il dipendente è sottoposto ad una indagine di natura penale, il procedimento disciplinare può risultare particolarmente complesso. Le regole del procedimento sono oggi definite dalla legge e in particolare dal testo unico sul pubblico impiego del 2001, con le modifiche introdotte nel 2009 dal decreto Brunetta e nel 2017 dal decreto Madia. Le sanzioni sono fissate dal contratto nazionale per il personale ATA e da alcuni articoli del testo unico della scuola del 1994 per i docenti. Il caso della professoressa dell'Aria mette poi in evidenza alcuni aspetti molto importanti. Intanto è ormai assodato che contro la sanzione inflitta al termine del procedimento è consentito solamente il ricorso al giudice del lavoro. In altre parole, il docente sanzionato dal dirigente scolastico non può appellarsi al direttore generale e neppure al ministro. Un tempo i ricorsi erano solamente di natura gerarchica e in alcuni casi era possibile persino proporre il cosiddetto ricorso straordinario al presidente della Repubblica. In talune situazioni è possibile però chiedere all'amministrazione di riesaminare il provvedimento, ma la sanzione può essere annullata o modificata solo dallo stesso organo che l'ha inflitta. Neppure il ministro avrebbe l'autorità o il potere di intervenire, come ha ben precisato anche la stessa ministra Lucia Azzorina proprio nel corso del question time. Due anni fa, in occasione della firma dell'ultimo contratto nazionale, Aram e sindacati stabilirono che sulla materia disciplinare riferita ai docenti si sarebbe aperta una specifica sequenza contrattuale, ma poi non se n'è fatto nulla. Su questo tema che è certamente di grande interesse per tutti i nostri lettori, torneremo ancora, quindi seguiteci su questo canale, seguiteci anche sul nostro portale www.tecnicadelascuola.it. Leggeteci, ma soprattutto scriveteci, mandateci le vostre osservazioni e i vostri commenti. Noi continueremo a darne conto. Grazie a tutti.